Allora, per il giovedì avete tanto tempo pensate a questo esercizio qua, senza guardare sul libro, impostate questo esercizio di calcolare il momento di inerzia di una sfera omogenea rispetto ad un'asse passante per il centro, il centro di massa visto che è omogeneo e il centro di massa coincide con il centro geometrico Calcolatelo, impostatelo, allora un modo di farlo è di pensare a tanti dischi del raggio giusto in modo che abbiano, un po' come avrete visto, ci sono dei giochi di legno dove si fossero dei lego, potete approssimare una forma che volete, se scegliete lo spessore sufficientemente piccolo, è chiaro che questo può approssimare molto bene la forma di un cerchio, è evidente che dei dischi grossi così non è molto, no? è un unico, non è certamente molto rotondo questo è già un po' meglio, con tanti dischi impilati, quindi ognuno di quei dischi del raggio giusto in modo che seguono il profilo della sfera, ognuno di quei dischi è omogeneo, quindi l'iesimo disco è omogeneo, voi conoscete il suo momento inerzia, è un mezzo la massa dell'iesimo disco per il suo opportuno massimo quadrato, quindi provate a impostarlo, ok? provate a pensarci per giovedì, la risposta è che il due quinti questo momento inerzia la riprenderemo ma non voglio esagerare perché abbiamo altre cose, piuttosto di parlare solo il momento inerzia perché non lo esaurisco preferisco lasciarlo sedimentare un po' e poi apriamo un altro argomento, facciamo un esercizio che abbiamo già discusso un po' un pochettino, allora è la caduta di un grave in un fluido viscoso, quindi adesso sappiamo come scrivere la forza peso, quindi visto che il corpo cadrà lungo la verticale perché non comunico a lui una velocità orizzontale, sennò farebbe la traiettoria parabolica, voglio lasciare la presa senza comunicare la velocità, quindi lui cadrà lungo la verticale e la legge di Newton, siccome sarà un moto rettilineo, la scrivo senza le frecce sopra, cioè non uso tutto l'armamentario dei vettori, però sono grandezze vettoriali, hanno segni algebrici, quindi visto che il corpo cade verso il basso, mi viene naturale chiamare la direzione verso il basso una direzione positiva, quindi i vettori che hanno il stesso verso della direzione positiva, li scriverò con delle grandezze, senza la freccia ma con un segno algebrico positivo, invece frecce che vanno verso l'alto, li scriverò senza la freccia sopra ma con un segno algebrico negativo, ok? Quindi scrivo la legge di Newton, cosa è la legge di Newton? La resi di Newton è, in tutta la sua bellezza anche vettoriale, è MA uguale F, io la scrivo così, da MA uguale F, perché questa è la massa del corpo, questa è l'accelerazione che il corpo ha e questa è la somma vettoriale di tutte le forze che stanno agendo sul corpo, quindi in questo contesto scriveremo MA uguale alla forza peso più una forza che nasce dall'interazione con un fluido, quindi scriviamo così fluido, adesso la forza peso sappiamo come scriverlo, la scriviamo con un più MG, il più non lo scrivo più, perché più? Perché verso il basso, quindi è una grandezza vettoriale positiva verso il basso se io avessi messo questa freccia direzione positiva verso l'alto, questo sarebbe stato col segno meno, deve essere chiaro quello, lo scrivo col segno più perché ho scelto io la direzione positiva verso il basso che è la direzione lunga la quale la forza peso agisce, quindi faccio così, quindi questo è un segno più, ok? La forza del fluido, io voglio discutere un esercizio particolare e voglio che la forza del fluido, la forza che il corpo sente per effetto dell'interazione del fluido, sia una forza che si opponga al moto della particella, quindi se io mi muovo di qua in quella direzione, la forza è di là, se mi muovo in questa direzione la forza è di là, se il corpo sta andando verso il basso, la forza è verso l'alto, prima cosa, quindi avrà un segno negativo, si oppone alla direzione del moto, si oppone alla velocità, qualunque sia la direzione della velocità, la forza è di là, la forza è di là, qualunque sia la mia direzione forza di moto, direzione della mia velocità, alla fine direzione della velocità è direzione opposta, quindi questo sarà rivolto verso l'alto, questo è verso il basso e quindi c'è il segno più, questo sarà verso l'alto e quindi entrerà un segno meno, quindi meno, meno cosa? Voglio che la forza del fluido, si chiameremo la forza viscosa, del fluido sentente, cioè è una forza che nasce fluido, non vedo molto bene, ho gli occhiali progressive e quindi quando sono a un angolo così vedo molto sfocato, sono da rotta male, voglio che la forza fiscosa, in questo esercizio, sia proporzionale al modulo della velocità Anzi, la scrivo così, proporzionale alla velocità, questo non è più un modulo, è addirittura un vettore, quindi se per caso la velocità è verso l'alto, la forza che direzione ha? Verso il basso, se la velocità è verso il basso, questo è verso l'alto, quindi se questo è positivo, cos'è una velocità positiva? Verso il basso, quindi quello che scrive qua è il vettore, non è il modulo, è il vettore, quindi la forza è proporzionale cambiato di segno, il fattore di proporzionale, scriviamo così abbiamo la formula completa, la scrivo così con la lettera P, questo l'abbiamo già discusso, vi ricordate? Questo si chiamerà il coefficiente di atletto viscoso e notate come funziona questa freccia, se per caso la particella sta viaggiando verso l'alto, se questa è la velocità, la velocità è verso l'alto, quindi ha un segno negativo, perché la direzione positiva è verso il basso e quindi se la forza, se la velocità è verso l'alto, la direzione della forza, gesti colorati, la direzione della forza è così, se invece la particella ha una velocità verso il basso, la forza è così, deve essere chiaro quello, se le velocità hanno lo stesso modulo, la forza avrà lo stesso modulo, guardate il gesto della della mia mano, se questo ha lo stesso modulo, allora il modulo della forza è uguale, se il modulo della velocità è doppia, allora la forza è doppia, questo è quello che sta dicendo la proporzione della velocità, quindi se la forza è metà qui, la forza sarà metà, ma la forza è sempre opposta alla velocità, la forza ha il segno algebrico opposto dalla velocità, e le proporzioni alla velocità, gli elettrici troveranno questa formula, ovviamente non si parlerà di velocità, si parlerà di corrente, ma troveranno un'analoga situazione in cui ci sarà una proporzionalità, quindi è che è un esercizio di meccanica ed elettrici, state attenti, il programma ed è anche, c'è un analogo nei circuiti elettrici, quindi mi raccomando questa è la situazione, quindi l'equazione di Newton, in tutta la sua bellezza, è questo, ma uguale mg meno b o, lo scrivo così perché la direzione positiva è verso il basso, voglio risolvere questo esercizio, voglio risolvere questa equazione, allora le condizioni iniziali in questo esercizio siano che il corpo parte da fermo, quindi io voglio discutere la velocità, poi lascio a voi integrare per sapere qual è la posizione, ma da questa voglio risalire la velocità, quindi supponiamo che inizialmente il corpo abbia una velocità iniziale, quindi la lo scrivo così, la velocità nell'istante iniziale, che scrivo così, v0, sia uguale a zero, cioè parte da fermo, cosa fa nel futuro? Sapendo che la legge di Newton è questa, quindi voi dovete risalire la velocità, ovviamente l'accelerazione cos'è? L'accelerazione è la derivata della velocità rispetto al tempo, quindi lo scopo qua è trovare la velocità che inizialmente vale zero e che al passare del tempo soddisfa questa equazione, cioè dovete trovare una funzione v di t, tale che quando lo mettete a sinistra e calcolate m per la sua derivata, deve essere uguale istante per istante a quello che è a destra, quindi qual è la v di t che soddisfi questa equazione? noi dobbiamo trovare una soluzione, per soluzione intendo dire una espressione v di t dove vale istante per istante questa equaglianza, sapendo però che all'inizio quando t uguale a zero deve essere zero, cioè questa è la nostra condizione iniziale, noi dobbiamo trovare una v che soddisfi la condizione iniziale, imporremo la condizione iniziale, però deve istante per istante risolvere, soddisfare l'equazione di Newton, ok? Quindi voglio farvi, voglio integrare questa, voglio trovare la soluzione di questa equazione questa è un'equazione dove appare una derivata, quindi è chiamata un'equazione differenziale, un'equazione di derivate, ok? è un'equazione differenziale, quindi la legge di Newton è un'equazione di derivate, perché c'è, per esempio se io guardo la direzione x, no? M A uguale F, se io guardo la direzione x ho M x due punti, pivo della vecchia notazione, il mio scopo è trovare una x di t che soddisfi questa equazione, e vedete che questo esercizio non è banale, perché la forza cambia nel tempo, non è costante la forza, perché appena il corpo comincia a muoversi, comincia ad acquistare velocità, appare la forza viscosa, eh? Se non ci fosse il fluido sarebbe un esercizio, che cazzo non vi pare? Perché senza il fluido avrei M A uguale M G, il fluido non c'è, A è uguale a G, l'accelerazione è costante e tutti sanno che la velocità sarebbe così più l'eventuale velocità zero, ma in questo esercizio velocità iniziale vale zero quindi nel nostro esercizio sarebbe questo qui, che è un'equazione altrimenti del cazzo, perché avete un grafico che è così, e qualcuno chiede se questa velocità che cresce linealmente il tempo, qual'è x? Beh, x uguale a x iniziale più l'integrale, e questo ovviamente è una matta colossale, e se la posizione iniziale è zero, velocità iniziale è zero, uno sa, sin dalla probabilità della seconda metale, che questo sarebbe l'andamento di x sui tempo, ma questo esercizio è più complicato, perché la forza non è costante, c'è una forza che cambia continuamente del tempo, appena il corpo si muove appare una forza di attrito che si sovrappone a quello della forza peso, quindi la forza che continuamente cambia del tempo, quindi dobbiamo imparare delle tecniche per risolvere questa equazione, molto importante quello che faccio stamattina, perché abbiamo scritto la forza peso così? Ricordate le discussioni che abbiamo fatto con il principio equivalenza, i razzi accesi, i motori, eccetera eccetera, non è banale questo, sembra banale ma c'è tanta fisica dentro, allora questa m e questa m guarda caso sono la stessa cosa e quindi io posso dividere per m avendo a sinistra la derivata della velocità rispetto al tempo uguale a g meno b diviso mv, d'accordo? Allora uno potrebbe dire, beh integro, per esempio faccio un passaggio che farebbe un matematico però si accorgerebbe subito, cosa che vi farò vedere che non andrà molto lontano ma formalmente uno fa così, no? Dice mentalmente senza dirlo a parole altre perché sennò farebbe in un ridire un matematico che passasse di lì, mentalmente voi moltiplicate addimenti per dt, quindi scrivete il differenziale di v è uguale a g meno b diviso mv dt. Questa è un'equazione di derivate, differenziale, questa è un'equazione di differenziale, perché questo è un differenziale, c'è un di, equazione differenziale, equazione di differenziale passare da questo a questo formamente è una a questo punto di differenziale, ok? Questa è un'equazione differenziale, cioè di derivate, questa è un'equazione di non più derivate ma di differenziale. Adesso cosa fareste formalmente? Integrate, no? Fate il simbolo integrale, il simbolo integrale, qua a sinistra state integrando sulla velocità, qua a destra state integrando nel tempo, mettete gli estremi, qua mettete gli estremi del tempo! L'istante iniziale chiamiamolo 0, t uguale a 0, l'istante generico lo chiamiamo t, quindi questo t qua in realtà forse è il caso di mettere un appiccetto, ovviamente questa funzione l'integrando è questo, cos'è il tempo del tempo? E' questo signore qui, non vi pare? Quindi mettiamolo magari con una parentesi quadra, ok? Quindi io sto integrando in t' da 0 al t che mi interessa, qua devo integrare la velocità dalla velocità iniziale, cioè la velocità iniziale è quella che corrisponde a questo estremo, alla velocità che corrisponde a questo estremo, quindi alla velocità che mi interessa nell'istante t, quindi questa la chiamo v' sto integrando il v' da 0 che è la velocità iniziale, quindi questa è la velocità iniziale e questa è la velocità se volete in questo istante qui, quindi gli estremi a sinistra e gli estremi di integrazione a destra sono associati tra di loro questo è l'estremo del tempo iniziale, questo è l'estremo del tempo finale, questo è l'estremo della velocità che in questo esercizio vale 0 alla velocità nell'istante che mi interessa, qua l'istante t, ok? E uno formalmente arriva qua, ma non va da nessuna parte, perché? Perché per integrare il termine a sinistra è banale, no? questo termine a sinistra qui e se questo lo chiamo 0, perché il partito va fermo, allora questo è semplicemente v, v nell'estremo, no? Ma a destra come faccio ad andare avanti? Per integrare a destra io devo già sapere la risposta, cioè io non conosco questo, non lo so ancora, quello è il mio compito, io sto cercando di trovare la v di t, non la so, non la so, quindi come faccio a fare questo integrale se non la so? Non vado da nessuna parte, lo vedete? Dove essere chiaro a tutti, formalmente fate una cosa, ma non andate lontano, perché per andare avanti dovresti già sapere la risposta, quindi questa non è la strada, questa non è la strada. Allora si fa così, ovviamente l'ho cancellato ma lo scrivo qua su, scriviamo l'equazione dei differenziali, dei differenziali, quindi differenziale velocità è uguale a g meno b diviso mv parentesi dt, ma invece di andare a testa bassa a cercare l'integrale e sbattendo la testa perché non si fa da nessuna parte facciamo una manipolazione, dividiamo per questa roba qua, ok? Notate che all'inizio la velocità è 0, quindi questo sarà 0, è diverso da 0, questo sarà diverso da 0 finché questa roba qua è diverso da g, quindi finché questo è diverso da 0 possiamo dividere per 0, possiamo dividere, cioè sto provovendo di fare così, questo passaggio è formalmente valido nella misura in cui quel denominatore è diverso da 0, va bene? Adesso che avete fatto questo, guardate cosa è successo, questa qua si dipende dal tempo e stiamo cercando di capire cosa, ma a sinistra esplicitamente il tempo non appare, implicitamente si, ma esplicitamente non appare, e a destra non appare v, quello che ho fatto è di aver messo a sinistra tutto quello che dipende da questa variabile su cui sto integrando e di aver lasciato a destra tutto quello che dipende dal tempo, in questo caso è la funzione 1 se volete, ho separato le variabili, qua stavo integrando sulla velocità, qua sto integrando nel tempo, quindi porto a sinistra tutto quello che riguarda velocità, e lascio a destra tutto quello che riguarda il tempo, separo le variabili, come Mosè che separa il mar rosso, separo, quindi ho separato le variabili, separato le variabili, infatti quello che sto facendo sto integrando questa equazione differenziale col metodo della separazione delle variabili, vi sto esemplificando sputacchio, vi sto esemplificando il metodo della separazione delle variabili, ho separato, d'accordo? Adesso integro, simbolo integrale, simbolo integrale, metto gli estremi, questo è un istante iniziale, la mettiamo 0, questo è l'istante generico, quindi integro su t primo, qua integro su v primo, dalla velocità iniziale, cioè la velocità associata a questo istante, fino alla velocità finale, cioè la velocità associata a questo, quindi questa sarà la velocità finale, questa è la velocità iniziale, che in questo esercizio vale zero, perché faccio partire da fermo la caduta, ovviamente l'integrale a destra è, o non è una colossale puttanata, certo che lo è, l'integrale a sinistra è l'area sotto la funzione, sotto la funzione 1, da 0 all' istante t che mi interessa, quindi questo è 1, perché la funzione 1, vedete che l'integrando è 1, da 0 a t, quindi questo è t, a destra è una puttanata e t, a sinistra, quindi questa è la fatica dell'esercizio, calcolare l'integrale a sinistra, quindi permettetemi di girarlo, quindi so che t è uguale a questa integrale qua, da 0 a v, di dv primo, cioè dell'integrale di 1 su g meno b diviso mv primo integrato in v primo, da 0 a v, non so se l'ho declamato bene, ma è scritto no, quindi dobbiamo fare questo legale, quando lo faremo sappiamo che è uguale a t, quindi sto leggendo la sinistra adesso, t è uguale a cos'è sto popò di roba, dobbiamo chiedere cos'è sto popò di roba, allora, qualcuno ha fatto l'analisi, dovrebbe forse essere grado di fare questo conto, cosa si fa? si fa? si fa una separazione di variabili non vi pare? chiamo g meno b diviso mv lo chiamo una nuova variabile, chiamiamolo v cappello carota, i matematici come chiamano quello? carota o cappello? è una nuova variabile, potrei chiamarlo età, uso il simbolo v perché in effetti è per ricordarvi che è associato v, ma guardate come è fatto, è g meno b, quindi questo integrale qui, questa roba qua sotto la chiamo v cappello, però no, non mi basta perché devo dire cos'è questo allora, se questo è la mia variabile, qual è il legame tra il differenziale di questo, che è quello che appare qua? è il differenziale di questo allora, il differenziale di v cappello è uguale al differenziale di questa roba qua, quindi se vedete, il differenziale di g meno, ovviamente perché quella è la differenziale di v, questo è il simbolo differenziale, qual è il differenziale di g? g è una costante, dovreste essere segnato di aver capito cosa ho fatto, adesso da questa relazione, cioè il differenziale di v cappello, v carota come si chiama, è uguale a meno b diviso m per il differenziale di v, quindi il differenziale di v è uguale a meno m diviso b il differenziale di v cappello, quindi prendo questa espressione, prendo questa espressione e l'utilizzo qua quindi adesso ho, vedete che di v primo, se volete c'è l'apice qua perchè alla fine lo utilizzerò così, sostituirò, questa la chiamerò quindi prendo questo e scrivo quello, prendo questo e scrivo quello quindi ho l'integrale di a meno, ovviamente meno mv esce dal simbolo integrale no? quindi ho meno m diviso b integrale di dv cappello primo diviso v cappello primo con quella sostituzione di variabile e con il ricalcolo di cos'è il differenziale di v primo in termini di v cappello io ho questo integrale, l'ho scritto così, ma adesso devo curare gli estremi, qua sto integrando in v cappello quindi questo è il v cappello iniziale, ma cos'è v cappello? v cappello è questa roba qua, quindi qual'è che ho il valore? io devo, l'estremo qua è l'estremo che è associato a questo estremo d'accordo? e questo cos'è? è quando la velocità è 0 quando la velocità è 0, v cappello quanto vale? g v cappello è g meno b diviso m per l'estremo di v cappello cioè questo è il valore di v cappello all'estremo questo è l'estremo di v cappello associato a questo estremo d'accordo? qual'è l'estremo qua associato a questo? questo lo chiamerò v cappello no? giusto? quando l'estremo è v quanto vale v cappello? v cappello è g meno b diviso m per l'estremo di v d'accordo? adesso questo è l'integrale che ognuno di voi deve sapere non vi pare? cos'è questo? questo è il logaritmo naturale x più c quindi qua devo fare meno b diviso m per il logaritmo naturale di v cappello questo è uguale a meno m diviso v in logaritmo naturale di v cappello ma che cazzo è v cappello? è g meno b diviso mv quindi è g meno p diviso mv quello è v cappello diviso g e quello è uguale a t quindi ho che a 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 si dai lo scrivo poi lo manipoliamo assieme anche se potrei già lasciarlo a voi perchè dovreste già aver riconosciuto dove siamo no? abbiamo fatto già la prima volta che vi porto fino a qua vi sposto su questo quindi questa è la nostra siamo arrivati fin qua faccio sto sotto c'è lo spazio a noi interessa v io voglio sapere come varia v nel tempo ovviamente è nascosta in questa relazione ma voglio esplicitarla è implicito qua perchè dico che t uguale v quindi c'è una relazione tra t e v ma voglio scriverla esplicitamente v come funzione di t e non t come funzione di v quindi cosa faccio? voglio invertire la funzione ovviamente la funzione del logaritmo può essere invertita e cosa si fa? intanto possiamo fare portare v di qua anche il segno meno quindi abbiamo meno b diviso mt che è uguale a stato po' di roba adesso esponenzio perchè la funzione esponenziale è l'inverso dell'ogaritmo naturale quindi ho la funzione e e alla meno b diviso mt è uguale a g meno b diviso mv questa è una v che mi è riuscita male e con un po' di pazienza lascio a voi arrivare alla formula che abbiamo già visto che è la velocità come funzione del tempo è uguale a mg diviso b per 1 meno e alla meno b diviso mt e l'avevamo scritto così come la velocità limite 1 meno e alla meno t diviso tau dove la velocità limite è uguale a mg diviso b e tau è uguale a m diviso b quindi vi prendete in mano gli appunti di qualche settimana fa dove ho discusso con calma che aspetto ha quella funzione ve lo ricordo la velocità dal valore iniziale arriverà assintoticamente ad aggiungere a questo valore qua ma ci arriva assintoticamente e lui ci arriva con una funzione che è un 1 meno una esponenziale decrescente e c'è un tempo caratteristico che è dato da m diviso b d'accordo? e vedete dunque che quando è vi ricordate che avevo fatto questo passaggio avevo ipotizzato che questo fosse diverso da 0 perchè solo così potevo dividere, giusto? e quando è che questo è uguale a 0? questo qui non è mai uguale a 0 tende a 0 ma per tempi infiniti cioè se voi aspettate abbastanza tempo allora questo tenderà a 0 ma non è mai 0 quindi questa divisione che abbiamo fatto è legittima non è mai 0 l'abbiamo potuto dividere perchè non era mai 0 quindi la velocità non cresce così non cresce così questo è l'andamento della velocità se non ci fosse stato in fluido invece inizia cercando di seguire questa retta qui ma non ci riesce e si dispossa sempre di più fino addirittura a tendere a non cambiare affatto e quel valore si chiama cittadini d'accordo? questo è il metodo di separazione delle variabili d'accordo? nel tempo che rimane voglio darvi un'altra tecnica di questa stessa equazione padroneggiate questa tecnica qua d'accordo? notate come questa soluzione soddisfa la condizione iniziale quando t è uguale a 0 questo vale 1, 1 meno 1 vale 0 cioè questa è la soluzione dell'equazione differenziale e i più rispetto alla condizione iniziale per costruzione l'abbiamo imposta se il colpo non era in velocità iniziale di essere 0 cosa avrebbe fatto? quale sarebbe stata la differenza? avrei avuto gli estremi cioè se io vi chiedo qual'è la velocità iniziale di verso 0 quale sarebbe stata la risposta? lo sapete fare? quindi avevo gli estremi in dv cos'era? g meno b diviso m v' qua invece di avere 0 avrei avuto v0 e qua avrei avuto v e questo sarebbe stato t fatelo con v di verso 0 cosa cambia per il risultato finale? va bene va bene adesso vi faccio la stessa equazione differenziale va con una diversa tecnica qual'era l'equazione differenziale di Newton? era che la derivata della velocità rispetto al tempo era uguale a g meno b diviso m v guardate è in programma anche questo sono due tecniche chiederò entrambi sia nel contesto dell'attività dei gravi che nel contesto dei circuiti faremo passaggi molto simili quando discuteremo un circuito sia nel circuito RL che nel circuito RC hanno equazioni matematiche identiche formalmente quindi le metri di soluzione che vi sto dando le faremo un'altra volta il termine a sinistra provate a scriverla così prima la giro perchè è cosa impossibile visto che possiamo benissimo ah no la somma è commutativa non ho fatto niente poi questo pezzo qua faccio così metto in evidenza meno b diviso m ho la v e ho qua meno m g diviso b questa roba qua la chiamo una nuova variabile v cappello non è proprio lo stesso v cappello c'è la differenza di segno però guardate lo spirito chiamo questo v cappello ok è lo spirito eh che conta questo dipende dal tempo questo dipende dal tempo qual è la derivata di v cappello? guardate com'è simile è simile il metodo qual è la derivata di v cappello? questa è una costante quindi è assolutamente identico alla derivata di v quindi quindi questa qua è identica alla derivata di v cappello rispetto al tempo quindi ho un'equazione che è questa che la derivata di v cappello cos'è v cappello? questa roba qua rispetto al tempo è uguale a meno b diviso m b cappello allora guardate un attimo uso un linguaggio che poi ricicleremo questa equazione qui o questa o la qui faremo una cosa che ci ispira viene tra quello che sto per fare dovrebbe sembrare plausibile in fondo qualcosa di simile avete fatto quando avete studiato equazioni algebriche porto a destra tutto quello che riguarda v e vediamo cosa c'è a sinistra porto a sinistra tutto quello che riguarda v e vediamo cosa c'è che rimane a destra a sinistra c'è la v certo c'è la derivata di v questo dipende da v portiamolo a sinistra quindi ho la derivata di v rispetto al tempo più b diviso mv questo dipende da v no la lasciamo a destra facciamo la stessa cosa là portiamo a sinistra tutto quello che dipende da v capello e lasciamo a destra quello che non dipende ovviamente a destra non rimane niente no? se non un bel ciccione zero guardate queste due equazioni di derivate differenziali hanno lo stesso aspetto a sinistra ma a destra questo c'ha qualcosa di diverso a zero quello a zero altra cosa a notare in questa equazione la v e le sue derivate non appaiono elevate a qualche potenza o estratte a radice quadrate questa è un'equazione lineare è la v appare alla prima potenza come appare alla prima potenza della derivata di v non appaiono potenze o altre cose è un'equazione lineare a sinistra è lineare questa questa diremo che questa è un'equazione dove è uguale a zero diremo che è un'equazione lineare omogenea è in linguaggio dei matematici questa è un'equazione di derivate quindi differenziale questo è il modo in cui si dice differenziale lineare omogenea questa è un'equazione differenziale non è omogenea non è omogenea perchè non c'è un zero ma sono molto imparentate queste equazioni perchè alcuni dividono il termine a sinistra cioè è la stessa pezzo a sinistra solo che uno è omogeneo e l'altro no d'accordo? altra cosa questa equazione qua appare alla derivata prima quindi è un'equazione lineare non omogenea d'accordo? alla derivata prima adesso io ho manipolato questo e ho fatto così quindi ho reso omogenea l'equazione come? semplicemente dicendo che introducendo v cappello che per me era v diviso cos'era? mg diviso b cioè con questa posizione ho preso l'equazione che non era omogenea e l'ho resa omogenea adesso va bene guardate qua in questa forma qui il mio compito è trovare un v cappello poi una volta che ho trovato v cappello io voglio trovare un v cappello che soddisfi questa equazione cioè voglio trovare la soluzione ups voglio sapere cos'è il v cappello tale che se la metto qui sarà uguale a cioè se valuto il termine a sinistra e valuto il termine a destra trovo che sono sempre uguali istante per istante quello è aver trovato la soluzione d'accordo? guardate è interessante questo mi sta dicendo che io devo trovare una funzione che quando la derivo mi restituisce la stessa funzione però moltiplicata per una costante e la costante è meno b diviso n interessante dovete subito rendermi conto che non può funzionare un polinomio perché un polinomio che aspetto avrebbe? cioè se io ho una funzione del tempo che è uguale che so a t quadro più b t più c un polinomio secondo grado quando faccio la derivata cosa succede? la derivata di una cosa del genere la derivata sarebbe 2 a t più b che non ha nulla a che fare con questa funzione quelli polinomi non vanno bene qual'è quella funzione? e ce n'è una che quando la derivata è uguale a se stessa rx quindi questo ci deve essere una cosa di ispirazione proviamo 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 una funzione di t proviamo una funzione v di t di tipo esponenziale perché potrebbe avere possiamo forse imporre che quando derivo la funzione ritorni in se stessa si c'è una fattura di profusionalità eh? proviamo potrebbe essere una cosa del genere dunque siccome ho bisogno del tempo no? perché siamo in fisica siamo in fisica non è matematica questa perché non va bene questo? perché gli argomenti degli esponenti devono essere adimensionali quindi se voglio che l'esponente dipende dal tempo ci deve essere qualcos'altro qua che ha le dimensioni di un tempo alla meno uno sono obbligato a scrivere alfa t con alfa qualcosa che ha le dimensioni di un tempo alla meno uno è una t è una cagata in fisica perché t ha le dimensioni di un tempo e gli argomenti e le funzioni trascendenti devono essere adimensionali ma la funzione stessa è adimensionale quindi non può andar bene questo perché se questa è una velocità questa è adimensionale ho bisogno di mettere qualcosa qua davanti che abbia le dimensioni chiamiamolo a per il momento che abbia le dimensioni di una lunghezza di un tempo sono obbligato a scriverlo così dovete meditare su questo fatto sono obbligato ok? sono obbligato perché siamo in fisica adesso questo è il mio tentativo di scrivere la soluzione allora scrivo la parte a sinistra scrivo la parte a destra e cerco di imporre la loro sbaglianza quindi a destra cosa ho? ho la derivata di v cappello rispetto al tempo ovviamente questo pezzo c'è adesso questo alfa c'è quindi quando vado a fare la derivata rispetto al tempo mi scende l'alfa quindi ho alfa a e a alfa t giusto? e in fondo questo ha le dimensioni di un'accelerazione e questa ha le dimensioni di un'accelerazione perché questo è una lunghezza di risultempo e questo è un altro di risultempo quindi una lunghezza di risultempo al quadrato questo è il termine a sinistra adesso dobbiamo imporre che sia uguale al termine a destra quindi è meno p diviso m a e alfa t cioè se voglio che questa prova sia una soluzione sbattendola qua e sbattendola qua devo avere l'eguaglianza quindi io per essere una soluzione devo avere che questo è uguale a questo vedete che la a non gioca nessun ruolo non gioca nessun ruolo nell'eguaglianza quindi in realtà non gioca nessun ruolo neanche questo non vi pare? non gioca nessun ruolo nell'eguaglianza la a perchè c'è su entrambi i lati non gioca nessun ruolo la e alla alfa t perchè c'è su entrambi i lati cioè possiamo anche far così che e alla alfa t è sempre diverso da zero non vi pare? la funzione esponente non è mai zero quindi possiamo dividere per questo e dividere per questo ma anche la a ma in fondo se io faccio a uguale a zero certo che è una soluzione non vi pare? questa qua uguale a zero perchè con a uguale a zero questo sarebbe zero è una soluzione abbiamo trovato una soluzione viva! ma è una soluzione del cazzo non vi pare? è ovvio che questa è la soluzione perchè la derivata di zero sarà zero questo è zero zero uguale a zero che è scoperta ma è una soluzione triviale quindi se vogliamo fare qualcosa di non triviale anche la a deve essere da zero e allora possiamo dividere per a e rimane che il contenuto matematico di questa eguaglianza che deve essere garantita affinché questa sia la soluzione è che alfa deve essere uguale a meno diviso m alfa deve essere quello non può essere un altro valore non può essere un altro valore eh? che ore sono? probabilmente finiremo no, mancano 4 minuti almeno riesco a finire avete visto il full chart qua? stiamo dicendo ah che bello potrebbe essere una funzione esponenziale scriviamola così ma dobbiamo scriverla così deve esserci un'alfa e deve esserci qualcosa che ha dimensione di una velocità davanti guarda caso qual'è il significato di a? beh quando t uguale a 0 questo vale 1 e quindi quando t uguale a 0 a v cappello è a cioè a è il valore di v cappello iniziale cos'era v cappello? era v meno b diviso mg ma ce ne vediamo tra un attimo probabilmente finiremo la prossima volta allora ecco la nostra soluzione quindi v cappello è uguale ad a e alla meno b diviso m t ecco la nostra v cappello ma cos'è v cappello? cos'è v cappello? v cappello era v meno mg diviso b e questo è uguale ad a e alla meno b diviso m ok? ecco che dovevo dirlo cos'è a? a è uguale a v cappello quando t uguale a 0 ok? intuivo che dovevo dirlo poi ho esitato e mi accorgo cos'è il significato di a? a è il valore di v cappello quando t uguale a 0 ma cos'è v cappello? v cappello è v meno mg diviso b quindi quanto è v cappello quando t uguale a 0? nel nostro esercizio a t uguale a 0 la velocità è a 0 giusto? quindi v cappello quando t uguale a 0 cioè v cappello quando t uguale a 0 è uguale a meno mg diviso b non vi pare? si signorina? mi guarda con l'espressione strallunata o è stanca o è innamorata di me qual'è? ok? ci siamo? allora scriviamolo eccolo qua v cappello è uguale a v cappello iniziale per e alla meno b diviso m per t e questa qua se risolvete è la nostra mica ok? vedete? vedete come ho risolto questa soluzione senza fare un integrale siete responsabili di tutti i due tipi di tutti i due metodi di risoluzione senza fare alcuna integrale ho risolto l'equazione cioè ho determinato la velocità che è soluzione di questa con la condizione iniziale che questo è uguale a 0 ok? lo riprendiamo spoveriggio con un altro esempio ok ci vediamo dopo